ciao ragazzi bentornati sul canale di fumetti fatti sono angelo masuro il futuro siamo su dock and battle anzi in realtà siamo nell'analisi dei nuovi pg che ci è voluto per fare questa analisi ho dovuto comunque testare un pochino meglio i due pg che fortunatamente ho pullato mentre invece quelli non dock and exclusive mi hanno schivato alla grandissima e quindi partiamo proprio con il nuovo goku kaioken kaioken nella sua versione tour in realtà perché si pulla in versione base quindi è un goku normale che quindi assa farmabile con i vari goku sr i folli lo possono farmare con goku r epic showdown oppure aspettate il torneo del potere per farmarlo con il goku fisico che diventa oltre istinto non so se avete capito comunque un goku che poi a tour diventa kaioken è esattamente questo pg che vediamo qua ovvero leader super fisico più dei chi hp attack divisa 90 per cento quindi un leader fisico super sostitutivo niente di che ormai ne stanno scendo a bizzeffe di questi leader così carino con la special abbiamo un grit resist attack per un turno e supreme damage ovvero a parte il supreme damage che dovrebbe essere di un moltiplicatore del 430 in questo caso abbiamo un boost ulteriore del 50 per cento soltanto per un turno che però nel caso in cui dovesse partire un additional significherebbe un ulteriore 50 che si va adizionare durante quel turno non male con la passiva abbiamo una base di attacco e difesa 80 per cento siamo nello standard siamo nello standard degli ultimi pg tour tipo godku tipo goku super center in gt anzi in realtà quello era 90 un pochino meglio ma ormai siamo su abbastanza stabili con questi inizi di passiva che cosa di in più questo pg che lo rende quanto meno interessante ha un addizionale 20 per cento fino a un massimo di 120 per ogni attacco che subisce quindi abbiamo un 120 per cento totale dopo sei turni che in realtà ragazzi è di più di più perché questo 20 per cento addizionale in realtà è un moltiplicatore che si va ad addizionare dopo l'attivazione dell'inizio della passiva dell'ottanta per cento quindi oggi vi spiego la matematica praticamente bisognerebbe prendere la percentuale dell'ottanta per cento ovvero 1.8 da moltiplicare con la percentuale del 20 per cento che 1.2 per avere un addizionale 16 per cento da da aggiungere a quel 20 per cento per ogni turno per un totale del 36 per cento per ogni colpo subito quindi questo pg dopo sei attacchi non sei turni dopo sei attacchi subiti ha un busto totale del 296 per cento che tanta roba il problema principale e lo metteremo a tancare a subire sei colpi insomma dovrebbe essere almeno ability full per tancare qualche cosina perché come possiamo vedere dalle sue statistiche ad ability full abbiamo una difesa dell'ottomila 931 che è una difesa buona sicuramente ma una difesa normale per un pg non do can fest perché stiamo parlando dunque di una ssr comune che da oggi in poi troveremo in ogni batch quindi vale la pena mettere a tancare sto pg per subire sei attacchi per massimizzare il suo danno bella domanda bella domanda anche perché sicuramente in game per quanto riguarda i pg fisici abbiamo una valanga di pg migliori di lui che sicuramente hanno un un boost nettamente immediatamente superiore un'altra cosa a suo stavore chiaramente potete vedere sono in realtà la mancanza di due link in particolare perché è un goku kaioken quindi essendo kaioken gli manca super saiyan ma va bene i link sono z fighter all in the family saiyan warrior race che link di merda io lo odio questo link ragazzi kamehameha shocking speed prepare for battle e fierce battle come potete notare questo è il primo goku kaioken del gioco che non ha over in flash perchè non lo so e perchè non gli avete dato over in flash mannaccia cioè togliete soya wario race mettete over in flash e quindi almeno il pg potrebbe avere un senso va bene va bene va bene si gioca in categoria planet namex saga e in futuro anche full power rimane comunque soltanto un'alternativa ragazzi un'alternativa ad ability free e non è chissà che cosa con l'ability comincia ad essere interessante però rimane un'alternativa fondamentalmente non è niente di trascendentale come pg caruccio la build chiaramente che vi consiglio è la full crit quindi un 15 critico 11 additional se per caso alla ricerca di altri pg avete trovato molte copie te ne c'è questa è quella è la build su cui dovete puntare che altro dire che altro dire potrebbe fare di più eh ragazzi potrebbe fare di più non so esattamente che speranza abbia nei suoi nei team in cui si gioca perché quali sono effettivamente a parte il super fisico dove palesemente non trova spazio c'è inutile lo sapete meglio di me che non difficilmente troverà spazio nell'attuale super fisico forse nel namek saga ma al momento il namek saga rimane un team free to play quindi finchè non esce un leader namek saga serio stiamo parlando di fuffa nel pur seian ma non riesce a metterci proprio piede avessi avuto over in a flash poteva avere un senso facendo linkare i alcuni di quei pg importanti del pur seian che hanno over in a flash nel full power il full power è non pervenuto perché stanno tanti di quei pg adesso nel full power il full power che sta cambiando cambia ogni giorno tra l'altro io sostengo che il full power presto o tardi uscirà un leader anche extreme per il full power perché gogo super saian 4 con tutto il rispetto per gogo super saian 4 è un leader osceno per un team dove i migliori pg del full power sono quasi tutti extreme poi ne parleremo ma proprio per una follia il fatto che abbia shocking speed e prepare for battle potrebbe farlo linkare proprio con gogo super saian 4 ma abbiamo di meglio da affiancargli non ho altro da aggiungere passerei invece a parlare della sua controparte ovvero freezer 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 che invece è il leader extreme str più 2 ki hp attacca difesa 90% anche lui assa farmabile con il freezer dell'evento di full power freezer quello praticamente che si droppa in freezer prima forma in carrozzella int si deve awakenare diventa final form e gli farmate la sa casino però si può fare anche lui nella special ha un great resource attack del ce quindi un 50% di boost con supreme damage quindi siamo uguali ragazzi 430 di moltiplicatore più 50 del boost che nel caso in cui parte una dish bla 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 comunque rimaniamo molto sullo standard anche all'inizio della passiva è simile al gogo che abbiamo appena visto attacca difesa 80% sostanzialmente qual è la differenza di freezer rispetto a goku e così riprendiamo anche goku un attimino cioè questi PG si devono vedere effettivamente insieme allora lui si boosta quando riceve un attacco direttamente del 100% oltre all'80% di attacco e difesa iniziale quindi abbiamo un ulteriore 100% di attacco che però chiama la stessa meccanica di prima ovvero non è soltanto un 100% ma è un totale di 260 perché bisogna moltiplicare l'80% per 2 addizionarlo al 100% e abbiamo 260 anziché 180 e 260 dopo aver ricevuto un solo attacco e tanta roba rispetto ad averne a riceverne 6 quel povero cristo di goku ne deve ricevere 6 per avere un boost decente e lui ne basta 1 la differenza però qual è? è che freezer riceve il boost soltanto durante il turno quindi al turno successivo non avrà di nuovo quel boost cioè dovrà ricevere di nuovo un attacco per avere di nuovo il boost cioè siamo capiti la differenza tra freezer e goku è che goku il suo boost è costante fino a un massimo di 296 mentre freezer invece si resetta ad ogni fine turno e quindi deve in ogni caso ricevere un colpo all'inizio del turno per avere quel boost successivo diciamo che questa cosa dovrebbe equilibrare i pg ma in realtà in ogni caso freezer è un attimino superiore perchè presenta una bella lista di link Stronger Climbing in Space universe most malevolent prodigy tier 4 conquest big bad boss shocking speed e fierce battle quindi la differenza sostanziale di freezer e goku è che freezer ha una bella pianta stabile di link un boost comunque decente decente subito dopo un primo attacco quindi non bisogna metterlo lì a sacrificarlo tipo tier pigliati le mazzate e busto basta un colpo e diventa immediatamente decente si può giocare soltanto in team STR, Xtreme e Namek Saga per ora perchè può darsi che in futuro esca qualche altra classe dove si possa giocare però è un pg interessante che chiaramente in team extreme può dire la sua nel team extreme STR può dire tanto la sua e rispolvera quel povero cristo di freezer e LR che ormai non si gioca quasi più invece con lui a fianco diventa pg da prendere in considerazione anche in Namek Saga lo stesso discorso vale anche in Namek Saga finchè non esce in Namek Saga un leader in Namek Saga però che dia delle boost importanti in leader come stats ragazzi siamo molto simili a quelle di goku in realtà forse la difesa è un pochino più bassa ma ci può stare e da ability full ha un buonissimo attacco di 14.000 quello si, quello ve lo concedo c'ha un buon attacco di 14.274 e spero che ne abbiate pullate tante copie perchè veramente è un pg STR veramente molto valido ad ability free ma comunque vi dà tante soddisfazioni grazie ai link che si porta dietro c'è ragazzi c'ha big bad boss già che c'ha big bad boss è tier 4 conquist e tantissima roba quindi Freezer meglio di goku come sempre e passiamo adesso invece a parlare dei due nuovi leader rispettivi del team super e del team X3 partiamo con il nuovo goku si pull ad SSR in forma goku base quindi come il goku che abbiamo visto prima assa farmabile con i vari goku bla 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 SR, R, 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 Tornio del Potere ci siamo capiti quindi assa farmabile con i vari goku attur diventa super saian soltanto al primo turno perchè poi come ben sapete questo pg come anche Freezer ad ogni turno si trasforma fino ad arrivare al quinto turno a goku super saian god blue leader dei super più 3 ki HP attack e difesa 120% praticamente è la stessa leader di veget blue tech con la differenza che non c'è la restrizione di dover tenere un pg di ogni colore in team è una cosa molto positiva è una cosa buona un pg che con questo tipo di leader vi permette veramente di spaziare di mettere qualsiasi cosa in team è una cosa che io da boom free to play quale sono ritengo molto divertente questo discorso vale sia per goku sia per Freezer per quanto riguarda la leader chiaramente la differenza però è che questo pg rimane un'alternativa perchè adesso vedremo in base comunque a com'è composto il pg veget blue tech è una bestia in confronto nonostante nonostante la restrizione del di dover tenere un pg per ogni colore è una bestia cioè c'è poco da fare ragazzi preferirete sempre e comunque giocare doppio veget è immensamente più forte giocare un leader cioè un team super con doppio veget ma comunque non ci perdiamo in chiacchiere la special di questo pg per quanto riguarda i suoi primi turni perchè poi cambierà è un resist attack e difesa cioè si aumenta attack e difesa del 20% e causa immense damage quindi a effetto kaioken ogni turno si aumenta attack e difesa del 20% quasi tutti i pg che hanno effetto kaioken hanno un problemino nel moltiplicatore della special che si chiama allora dovete sapere che innanzitutto il moltiplicatore di immense damage a 10 solitamente è 505% ma per la maggior parte dei pg che hanno l'effetto kaioken scusate il moltiplicatore dell'immense damage diminuisce di 20% quindi praticamente il boost iniziale della prima special va a colmare quel 20% che invece viene tolto inizialmente ai pg che hanno effetto kaioken sembra una scemità però proprio perchè turno per turno si boosta sempre di più c'è questa piccola penitenza del 20% sorvolabile in realtà perchè comunque considerando considerando che questo pg darà in ogni caso il meglio di sé vari turni dopo e vari additional dopo diciamo che possiamo chiudere un occhio la passiva attacco difesa 80% ok all'inizio del turno e ha una riduzione del danno ricevuto del 21% per quanto riguarda la sua forma iniziale come abbiamo già detto ogni turno cambia trasformazione il problema di questo Goku è che effettivamente cambiare trasformazione gli fa cambiare anche alcuni link per quanto riguarda il primo e il secondo turno quindi in forma super saiyan e in forma super saiyan 2 guardate che figo i link rimangono gli stessi la passiva cambia il resist attacco rimane uguale e quindi turno per turno continua sempre a boostarsis quindi l'effetto kaioken non si va a perdere quando si trasforma ed è una cosa buona tra l'altro il boost della special nell'attacco sia per l'attacco che per la difesa va a colmare leggermente quel diciamo quel debuff che riceve in difesa con la passiva perchè attenzione questo PG come anche Freezer in realtà ad ogni turno la passiva modificandosi aumenta l'attacco ma abbassa la difesa quindi in super saiyan 2 il suo attacco va a 90% e la difesa a 60% mentre invece la riduzione del danno ricevuto va a 22% cioè quindi un percento in più si sentirà veramente poco abbiamo detto i link sono gli stessi super saiyan 3 quindi al terzo turno che in realtà poi dovrebbe essere il sesto turno di gioco quando in realtà la battaglia sarà quasi già finita almeno per quanto mi è capitato provare non sono mai andato oltre al super saiyan 3 ragazzi cioè si chiude prima comunque abbiamo sempre attacco e difesa che si aumenta con la special buono la passiva è adesso diventata 100% di boost e 40% di difesa e riduzione del 23% va bene questa ragazzi è una delle mie forme preferite perchè comunque presenta cambiando qualche link presenta link come limit breathing form golden warrior experience fighter super saiyan camma ovelino flash e fierce battle vi posso assicurare che questo pg che ha una cosa interessante si può giocare in quattro categorie riamo god super saiyan 3 pur saiyan e full power lasciando perdere pur saiyan e full power che comunque in questo momento nel global non ho potuto testare testandolo su global nel riamo god e in super saiyan 3 vi posso dire che nel riamo god non mi fa impazzire cioè pur giocando male e arrivando a farlo trasformare nella sua forma god non mi fa impazzire ma in super saiyan 3 può essere carino infatti ho provato a giocare in super saiyan 3 che con un boost di attacco cioè quindi doppio bardak del 170% quindi di un totale del 340 più bardak in rotazione che gli dava il boost perchè stavamo un pochino sotto di hp comunque ragazzi in quel turno Goku mi ha fatto 1.800.000 non è male non è male ed il mio è chiaramente ability free stiamo parlando di un pg che nel suo sesto turno no scusate nel suo sesto turno nel suo sesto turno quando si trasforma in super saiyan 3 nel team super saiyan 3 fa 1.800.000 da ability free mica male comunque il problema poi subentra quando al turno dopo diventa super saiyan 3 perchè poi il fatto che cambi sempre link è una cosa divertente da un certo punto di vista perchè raramente riusciremo a trovare un best buddy per questo pg che sia a buono sia dall'inizio fino alla fine cioè vi capitano spesso di dover cambiare pg da fare ruotare accanto a lui nella sua forma gold nella sua forma gold abbiamo 110 di attacco e 20% di difesa quindi a questo punto della sfida la difesa si è abbassata tantissimo ma tecnicamente con il resist con il resist della special dovremmo ancora riuscire a colmare il danno invece debuffato è del 24% i link sono cambiati e sono diventati godly power, warrior god, shocking speed, super saiyan all in family, all in flash e fierce battle in questa forma il suo best linker è chiaramente un godku perchè godku sia il sia quella gl che quello str presenta come link sia godly power sia warrior god sia super saiyan e chiaramente fierce battle quindi c'è un bellissimo boost affiancato a godku stessa cosa, stessa sorte al suo decimo turno cioè al quinto turno che poi però è il decimo barra undicesimo turno di gioco se mai ci arriverete goku diventa super saiyan blue e cambia in questo caso anche la special non ha più il resist attacca e difesa ma ha un immenso damage che ha una grossa chance di stannare ovvero 70% di stannare che è tanta roba e la passiva ha un netto 120% di attacco che però calcolando tutti i precedenti boost per ogni turno ha veramente un attacco di tutto rispetto il danno non ha più la difesa ma tanto ormai la dovremmo aver colmato con tutti i boost precedenti e ha la riduzione del danno del 25% più nel primo turno in cui appena entra in super saiyan blue 12 ki totalmente a caso proprio a dire dovete assolutamente sparare la special altrimenti ci pigliamo collera e ha un critico garantito solo una volta del 100% questo vuol dire che quando appena goku diventa blue voi lancerete per forza la special e per forza infliggerete un critico che farà dei danni vergognosi più la possibilità di stannare del 70% qualora il nemico può essere stannato e i link sono gli stessi della versione precedente giudizio finale di questo PG per dare un giudizio finale chiaramente diamo anche uno sguardo alla sua ability ad ability free abbiamo comunque una difesa di 7.350 e un buonissimo attacco di 13.978 quindi quasi 14.000 ad ability free ad ability full invece abbiamo un 10.750 di difesa e 16.978 di attacco che è quasi un 17.000 ottimo ottimo ma fondamentalmente siamo siamo allo stesso problema di prima ragazzi cioè il problema è sempre lo stesso il PG per arrivare a questa cioè a parte che non ci arrivate quasi mai per carburare davvero tanto ha bisogno di arrivare a questa fase nelle prime fasi quindi nel fase Super Saiyan e Super Saiyan 2 i link sono totalmente diversi c'è anche Prepare for Battle che poi perde quindi fondamentalmente il problema principale di questo Goku è che troverete difficoltà ad affiancargli qualcuno di stabile quindi il mio consiglio è che se l'avete pullato vi divertirete sicuramente a giocare io mi sto divertendo però affiancategli qualcuno di decente e al momento gli unici PG che mi vengono in mente che rimangono stabili nel linkare con lui sono sono Bardak Super Saiyan 3 perché Bardak ha sia Prepare for Battle che Orino Flash quindi nel momento in cui Goku cambia non sentirete troppo la differenza specialmente specialmente per quanto riguarda i key un altro PG che linka decentemente con lui è Goku Ultra Istinto che comunque ha sia Prepare for Battle che Orino Flash e il più blasonato con Jeta sia l'int che l'STR che prima o poi forse avrà lez e diventerà decente da affiancargli l'int ormai ormai ragazzi quasi sono quasi dispiaciuto di questa cosa sa nel meta attuale visto che non ha boost difensivi sta perdendo veramente tanto però comunque fondamentalmente come dissi anche nella live di ieri trovo Goku un pochino inferiore a Freezer perché è sicuramente un PG carino ma in tutte e quattro le categorie in cui si gioca cioè non è assolutamente un PG che serve ce l'avete bene, non ce l'avete un serve e soprattutto non aiuta il team cioè non è che è un supporto per il team forse è una cosa sbagliata di questo PG è che la riduzione del danno dovevano farla come quella di Omega cioè che riduceva il danno per tutto il team e non solo per se stesso se fosse stato così sarebbe stato un PG decente da tenere in rotazione perché avrebbe debuffato sostanzialmente tutti gli attacchi quindi aiutando effettivamente il team invece così diciamo che tanca da solo cioè tanca solo lui per fatti suoi quindi come ho detto prima il PG è bello ma non è essenziale per il quando riguarda il il team super Veget blu è ancora è ancora superiore e quindi direi adesso di passare invece a Freezer che dei due come dicevo prima è un attimino il migliore perché voglio andare subito al sodo i team in cui si gioca specialmente il Resurrected dei Movie Bosses con il suo arrivo sono migliorati ulteriormente cioè la presenza di questo Freezer nei team Resurrected dei Movie Bosses sul full power purtroppo non posso ancora dire nulla perché non ho modo di testarlo e tra l'altro fra qualche settimana uscirà ulteriormente un altro PG quindi lasciamo perdere ci torneremo sul full power ma comunque questo PG anche nell'Extreme Tech aiuta un casino ragazzi cioè non avete non avete mai trovato Broly Super Sentry non fa niente se avete trovato lui giocate lui leader e avete un PG Extreme Tech più stabile di Broly Broly fa più danni ma lui è più stabile più stabile perché rispetto al Goku ha nella passiva un ripristino degli HP costante ad ogni turno è questa cosa del ripristino di HP ad ogni turno ragazzi qualsiasi qualsiasi dei team in cui lo giocherete vi renderete conto che avete per le mani un team immortale nel Resurrected non ne parliamo proprio nel Resurrected futuro praticamente qualsiasi PG ha la recovery e quindi state sempre state sempre a guarire sempre a guarire sempre a guarire e Movie Boss è baratissimo rotazione perfetta con cooler fisico ma di che stiamo parlando però fondamentalmente il PG non è molto differente da Goku cioè abbiamo proprio le stesse le stesse caratteristiche attacca di 80% poi ad ogni turno si trasforma la differenza sostanziale che lo rende migliore di Goku e sempre i link ragazzi perché lui cambia relativamente poco i link rimane costante rimane comunque un freezer rimane un freezer per tutti i turni quindi non cambia tanto i suoi link anzi andando andando in avanti cioè migliore effettivamente migliore effettivamente possiamo vedere ha la seconda forma ha lo stesso autentico boost ragazzi nella passiva e nella special cioè stiamo parlando sempre di un resist attacco e difesa ok e di un boost progressivo dell'attacco a discapito della difesa ma abbiamo un recupero HP sempre maggiore questa è la seconda forma e ha gli stessi link della prima questa è la terza forma e acquisisce shocking speed però comunque non va non va ad intaccare troppo capito cioè rimane comunque rimane comunque un freezer che linka benissimo nei team in cui si gioca e in questa fase abbiamo 100% attacco 40% difesa 13% di recupero HP poi arriviamo alla final form che è la mia preferita in questo caso vi dico che raramente riesco a vedere la golden perché già in questo turno si è boostato con le special si è boostato così tanto l'attacco che quasi dei team in cui l'ho provato è quasi shottato sempre prima però rimaniamo comunque sempre con la stessa identica cosa di Goku quando poi arriva nella sua forma finale abbiamo un boost d'attacco del 120% non abbiamo più la difesa ma abbiamo un 15% di recupero HP la special garantita grazie al boost di 12 ki è il critico che fa 100% più il 70% di stannare nella special e vabbè come come con Goku ci arriverete difficilmente in questa fase ma rispetto a Goku lui costantemente grazie al recupero HP risulta essere un PG decisamente più di supporto per il team e per i team in cui si gioca e anche nella versione extreme v3 vogliamo chiamarla v3 va bene si si può giocare doppio freezer si può giocare doppio freezer e tenere un rosé al centro del team mentre invece nella versione super giocare doppio Goku e tenere soltanto un gadget tech al centro del team no no ragazzi doppio gadget tech doppio gadget tech vi fa comunque più danni base proprio e anche se volete anche se volete giocare Goku leader gadget tech amico nel momento in cui gadget tech ve lo mettete amico siete comunque costretti a tenere ad avere un PG per ogni colore quindi non ha senso cioè se avete gadget tech giocate doppio gadget tech mentre invece per quanto riguarda il team extreme giocare doppio freezer vi risulterà essere carino specialmente se tra i vostri extreme non avete determinate LR vi divertirete a giocare un clan freezer potreste giocare golden angel linkando golden angel int chiaramente golden angel linkando con un freezer l'altra tornazione potrebbe essere freezer cooler e poi mettete un paio di PG così a baffare quali rosè per baffare chi è la difesa e un bel tarles per baffare chi è l'attacco cioè e potete chiudere il cerchio con un bel metal cooler e vi siete fatti il team che vi fa divertire quindi in soldoni e in finale che cosa ho da dire di tutto questo dual fest e dei nuovi PG i due freezer entrambi promossi per motivi diversi i due Goku insomma c'è Goku agl alla fine è solo divertente si salva in calcio d'angolo Goku fisico ci vuole ci vogliono troppe risorse per renderlo decente fatemi sapere voi invece cosa ne pensate ragazzi fatemi sapere quali PG avete pullato durante questo dual fest spero che spero che nella ricerca di questi nuovi PG invece abbiate trovato dei vedget e dei rosè che restano dei PG di tutto rispetto forse forse ancora superiori a questi però va bene dai va bene dai avere aver trovato Freezer o Goku vi permette di giocare tanti team particolari vi fa stare un attimo più tranquilli con le cervelle quello sicuramente e io mi sto divertendo veramente giocarli entrambi a provare team misti senza dover per forza tenere in considerazione di tenere un PG per ogni colore quella è una cosa che non sopportavo specialmente per il team extreme finché non è uscito thalas ragazzi giocare per forse un PG agl era era un incubo per il team extreme perché il miglior PG agl tolto thalas prima era c17 che però nonostante io abbia abiliti full ed è un PG che a cui sono affezionato è un PG che non ha big bad bosses e per quel motivo lo odio vabbè ragazzi detto tutto è stato durato tantissimo mi dispiace mi dispiace di averlo fatto così tanto ma purtroppo era doveroso vi do un bacione ci vediamo non lo so quando sicuramente in live a cazzeggiare mentre invece ci potremo vedere fisicamente per chi si può spostare questo fine settimana al Fanta Expo di Salerno dovrei esserci tutti i giorni se tutto va bene quindi yeah venite al Fanta Expo che ci divertiamo e così vi posso ficchiare dal vivo vi do un bacio ragazzi ciao ciao ciao